Ieri sera in Piazza Fatta, gli assessori di Pinerolo hanno incontrato i cittadini per informarli su quanto è stato fatto in questo primo anno di amministrazione. Il sindaco Luca Salvai ha anche parlato della Cavallerizza Caprilli e della Scuola Federale di Equitazione. Altro argomento affrontato, la situazione degli alunni della Nino Costa, che a partire da gennaio verranno trasferiti all'interno dell'ex asilo Nido Serena. Nei principali progetti del settore lavori pubblici, anche la messa in sicurezza del Palazzo degli Acaia, asfaltature e bitumature delle strade. Si è parlato anche dell'ampliamento della ZTL e della realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del centro storico. Altro punto, sul progetto accendi una luce per chi non può, lanciato dal comune di Pinerolo. Le donazioni possono arrivare non solo dalle associazioni, ma anche dai singoli cittadini. Altro punto, sul progetto accendere. Altro punto, sul progetto accendere.